Ciao a tutti, sono la dottoressa Manuela della farmacia Labrozzi. Ti è capitato sicuramente di non riuscire ad addormentarti qualche volta. Oggi voglio darti tre consigli per riuscire a prendere sonno più velocemente. Il primo consiglio è quello di andare a letto quando sei stanco. Sembrerebbe una cosa ovvia, però non è così. Il nostro organismo preferisce le abitudini, quindi andare a letto sempre allo stesso orario può essere molto favorevole e anche nel weekend bisognerebbe mantenere questa abitudine in modo tale da non interferire con i ritmi del sonno. Il secondo consiglio che voglio darti è quello di evitare di dare delle sbirciatine notturne a Facebook, di accendere il televisore o di leggere le ultime pagine del libro che stiamo leggendo. Perché? Perché si può ottenere un effetto contrario, ossia l'organismo produce adrenalina che ci tiene con gli occhi spalancati. Invece sarebbe opportuno mantenere una posizione rilassata, anche se non dormiamo, in modo tale da abbassare l'ormone dello stress che è il cortisolo. Questo ci permetterebbe poi di addormentarci più velocemente. Il terzo e ultimo consiglio che voglio darti invece è quello di non contare le pecore. Perché? Perché può avere l'effetto appunto opposto, cioè quello di tenerci svegli. Quello che si può fare è immaginare un'attività che normalmente svolgiamo durante la giornata, ma che sia positiva, che sia piacevole. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio e tanta salute a tutti!